Musica Avviare un tavolo di confronto permanente sulla sanità cittadina a cui il Comune deve partecipare a pieno titolo è la richiesta del Sindaco Luigi De Magistris che in qualità di prima autorità sanitaria locale auspica una collaborazione tra istituzioni, asle e regione per garantire il diritto alla salute e un'adeguata erogazione delle prestazioni sanitarie e assistenziali. Il Comune rivendica insomma un ruolo da protagonista nell'ambito delle proprie competenze promuovendo la salute come bene comune e diritto costituzionalmente garantito. È venuto il momento di fare una governance cittadina sulla salute e bene comune quindi il Comune deve stare attorno al tavolo, non può assistere da spettatore alle scelte di commissari o di altri perché insomma siamo da un lato convinti delle eccellenze della sanità napoletana ma altrettanto preoccupati dei tagli duri nazionali e regionali sull'assistenza, sui costi che aumentano, i presidi ospedalieri che chiudono. Favorire l'allineamento tra la programmazione delle asle e il piano comunale di zona per l'assistenza socio-sanitaria può contribuire ad ottimizzare il servizio e a ridurre i costi migliorando la qualità della vita dei cittadini. Quello che ci riproponiamo è di costituire quindi un comitato interdisciplinare e interassessorile che chiama in causa le organizzazioni sindacali, la scuola ma anche il mondo del lavoro chi è in grado di promuovere politiche che abbiano un impatto sulla qualità dell'aria che respiriamo. Nonostante i tagli di governo e regione si punta a potenziare l'assistenza domiciliare, i centri di salute mentale, i consultori e ad intensificare i programmi di prevenzione e promozione della salute nei settori della sana alimentazione, della tutela ambientale e della lotta alla povertà e alla tossicodipendenza. Facciamo delle politiche sanitarie programmate in cui veramente l'intervento sanitario sia mirato e sia congruo. Un altro modello di sanità è possibile purché si abbia le mani libere nel ripensare al di là degli interessi privati o privatistici ma badando alla salute veramente come bene comune.